Sono Benedetta Salvatori e ho 27 anni. Allora, io ho studiato all'Università di Padova e ora lavoro con il CNR di Padova, con l'Istituto di Neuroscienza in particolare. Il mio progetto di ricerca consiste nello studiare il diabete gestazionale andando a identificare dei sottogruppi all'interno di questa patologia, così che questi sottogruppi possono essere meglio ricollegati ai rischi legati al diabete gestazionale stesso e in un successivo momento andremo poi a sviluppare un'applicazione web tramite la CloudGar, fruibile dai professionisti sanitari, in maniera tale che questi possano identificare il sottogruppo delle pazienti affette da diabete gestazionale a loro carico, così da targetizzare al meglio la terapia. La prima fase consisterà nel utilizzo di tecniche di clustering, quindi campo del machine learning non supervisionato, per andare ad identificare questi sottogruppi nel diabete gestazionale. Poi, tramite delle analisi statistiche come regressione logistica, andremo a studiare e quantificare la relazione di rischio tra ciascun sottogruppo e i diversi esiti clinici indesiderati legati al diabete gestazionale. Utilizzerò la CloudGar per l'implementazione dell'applicazione web per i professionisti sanitari.